Il sorriso è la cosa più bella. Stavo male con i denti e avevo fatto un lavoro che non mi piaceva e non ero contenta di questa situazione e volevo trovare l'occasione per poter risolvere questo problema qui. Poi andando su Facebook ho letto, ho cominciato a leggere le recensioni e ho visto il gruppo del dottor Palmas e ho cominciato a leggere lì cosa dicevano, cosa faceva lui perché lui ci ha messo tanto del suo lì e li ho contattati e gli ho mandato l'ortopanoramica e da lì è cominciato tutto. A miei familiari sono piaciuti i denti, sono piaciuti come sono piaciuti a me, sono belli e adesso devo abituarmi perché comunque è una cosa nuova e devo abituarmi a questo, però sono contenta. Sul mangiare ero limitata, stavo attento, ho paura e per il resto anche i provvisori mi sono trovata abbastanza bene non ho avuto grandi problemi, il sorriso è la cosa più bella.